Ciao, mi chiamo Beatrice, vengo da Bologna e sono una futura gelatiera. Questo metodo l'ho conosciuto tramite il mio compagno, insieme siamo venuti a frequentare i primi corsi. Dei corsi mi è piaciuto molto l'approccio, anche per, non ho detto i lavori, come me, per esempio, che non sapevo assolutamente niente di queste tecniche. Il risultato più strabiliante che ho ottenuto è stata una guarigione a un problema di una calcificazione alla spalla, alla spalla sinistra, che non mi permetteva neanche di mettere la giacca e tenere le borse della spesa, per esempio. Quindi ho fatto ecografie, ho fatto raggi, sono andata a una visita al medico specializzato del Rizzoli, del Rizzoli di Bologna, e ho detto che non ci sarebbe stato niente da fare, non c'era una cura se non aspettare e non era operabile. Per cui, grazie a questo metodo, applicando questo metodo, sono riuscita in, direi, 3-4 mesi a guarire completamente e a muovere il braccio come prima, quindi come se mai fosse successo qualcosa. Quindi io questo metodo lo consiglierei a tutti, non solo a chi conosce qualcosa, cioè magari è già un professionista, ma anche a persone che ha incuriosite, praticamente, persone che non hanno mai avuto approcci di questo tipo, ma sono incuriosite da guarigioni che sono possibili.